Perché non entri in una regia marina, avresti una paga certa e da gente onesta? Diavolo i signori della marina. Per ogni scellino che danno a me il capitano ne prende se cedetto. Non è così che si fa fortuna. Non ci serve una fortuna. Non è per bisogno, caro. Voglio del cibo che sia decente. Voglio dei muri che proteggano dal vento. Voglio una vita decorosa. Quanto pensi di restare laggiù con quei pirati? Un anno per me. Due anni, sì. Va bene. Non più di due. Prometti. Un anno per me. No 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 No